Il mercato immobiliare è assolutamente in crescita, almeno per quanto riguarda quello delle famiglie. Un elemento essenziale riguarda quello della valutazione immobiliare, perché è un elemento che è stato introdotto in maniera sostanziale nella direttiva europea sui mutui ipotecari. Noi come Italia siamo all'avanguardia, abbiamo elaborato insieme a tutti gli ordini professionali dei periti, Tecnoborsa e Assovib, che è l'associazione delle società di valutazione immobiliari, un documento, si chiamano linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, che è sostanzialmente all'avanguardia in quanto rappresenta un insieme di principi per consentire una corretta, trasparente valutazione dell'immobile integrata a livello europeo e in attuazione delle disposizioni normative vigenti.